Che mi scusi signor direttore, se io oso parlare al suo cuore, lei leggendo resterà di sasso, chi le scrive è gelesto e poutasso. Un compagno mi ha riportato, che lei contro di me s'è scagliato, l'altro giorno al centro del reparto, e strillando ha rischiato l'imparto. E nel corso di quella oratoria, del mio caso lei citò la cronistoria, e più volte il mio nome ha menzionato, esclamando, sarà licenziato. Forse lei è un pochino arrabbiato, perché al posto che mi hanno assegnato, io non c'ero, e per combinazione scioperavano i capi sezione. Ma se vuole lo scrivo sul muro, ero in mutua signore, lo giuro. Il poutasso sa tante cose fare, ma mi creda, non sa scioperare. Che si informi, non tira il risparmio, il celeste poutasso col tornio. Se c'è un tipo che non fa mai le feste, quel vincenzo è poutasso celeste. Lei può dirmi, è iscritto a quel partito, sì signore, però non ho votato. Il padrone, giammai non ho tradito, e nessuno mi ha mai licenziato. Queste righe per mettere in chiaro, quanto sopra, sperando, signore, che si metta una mano sopra il cuore. Perdoni l'assenza al lavoro, che mi scusi se l'ho disturbato, e la fiera protesta o vergato, parla un tipo che non è un gradasso. Firmo e ossequio. Celeste poutasso.